Con Matteo di Serafino alla partenza da Rovereto oggi ce l'ha resa dei conti Sì, oggi è una tappa durissima, ci sono molte salite tra cui il passo di cavia che è una salita molto dura, speriamo di far bene e vedremo dopo, siamo sulle montagne Ecco, tu ti aspettavi di essere a questo punto già in zona podio? Ma sinceramente sì, perché durante gli ultimi allenamenti mi sentivo molto bene, però... Come dire, è sempre una bella cosa stare sul podio Vedremo durante le salite come sono le sensazioni, speriamo bene Pensi che la corsa possa esplodere già nelle salite precedenti il cavia? Ma io sono convinto che la corsa esploderà pronti via, si andrà subito a tutta Se arriverà sull'ultima salita già allo stremo delle forze Ok, grazie mille